Bene mai ora che ci pensa. È uno dei suoi trucchi. Tu schiaffeggi. Lui invece accarezza. E se tu tieni la pistola così, non corri il rischio di frenare il giro del tamburo. Perciò Telby ha modificato il profilo del cane. Può sparare sei colpi nel tempo in cui tu ne spari tre. E con più precisione. Tutto sta nell'arma. Te l'ha scelta lui la pistola, vero? Sì, perché? È un'arma magnifica. Magnifica, certo. Ma con una canna lunga sette pollici. Esattamente giusta per me. Hai visto la sua pistola? Sì, è uguale alla mia. Ah, no, non ha il mirino. Infatti, non ha il mirino perché Telby ha segato la canna. Tu hai due pollici di canna in più, due pollici di più da estrarre. Sai che significa? Significa che mi hai rotto le scatole. Ma cosa credi? Che mi metta contro Telby soltanto perché ha una pistola più corta della mia? Vi darai ragione il giorno in cui ti troverai faccia a faccia con Telby. Smettila. Ascolta ancora una cosa. Se mi succedesse una disgrazia, ho nascosto un pacco lì, nel posto in cui un tempo tenebi i soldi. Va. Scott, prendilo, se credi che ho ragione. Ma lascialo stare se sarai ancora dalla parte di Telby. Lo puoi buttare. Sperta ancora una cosa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Signori, signore e signori, noi tutti ci siamo addolorati per la fine del povero Abel Morray. Spero solo che qui vi divertiate quanto vi divertivate da lui. Vi potrete giocare in santa pace. Vendete posto ai tavoli, signori, da questa parte. Accomodatevi. Prego. Il gioca o incomincia? La partita inizio. Grazie a tutti. 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 qualcuno? E allora? Vogliamo lasciare la parola alle pistole? Comincia tu, Cross. Io sono un deputio, io sono la legge, non aggredisco nessuno. Tu sei un qualunque pistolero pagato per uccidermi. Avanti, spara! Scott, tutto bene? Buttala a sputafuoco, Telby. Tutto è finito. In questa città non c'è più nessun deputi con la pistola rapida. Bravo, ero sicuro. Vieni al salù, dobbiamo festeggiare. Suonava triste, ma suonava bene. Non suonerà mai più. E io non ho nessuna voglia di divertirmi. Da quando sei diventato sentimentale? Forse da oggi. Scott Mary, dovresti venire con me subito. Papà vuole parlarvi. Ma sì? L'ultima volta mi ha cacciato via. Lo so, ma adesso è tutto diverso. Vieni, ci aspetta la vecchia stazione di posto. Non ti fidi di me? Guida tu. Ah! Scott, se farai quello che mio padre vuole, lui non si metterà più tra noi due Cosa vuoi ? Non lo so, ma tu lo farai per me No, dopo Mani in alto e non muovetevi Bene, chiudi la porta Sei venuto per parlare Grazie 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 Grazie